L'ennesimo incidente automobilistico. Ore 8.30 di oggi. Siamo sulla strada provinciale 16, nel tratto compreso fra Berbenno e Fusine, poco prima del ponte che si affaccia sulla statale 38. Una Fiat Panda Bianca, per cause ancora da definire, esce di strada e si ribalta sulla superficie di un campo adiacente al rettilineo. L'automezzo carambola sul terreno fangoso per circa 15 metri, un rotolamento senza fine e al termine del quale l'utilitaria giace capovolta. Al volante c'è una ragazza di 21 anni. La conducente, che viene definita in condizioni mediamente critiche, viene condotta verso l'ospedale di Sondrio a bordo di un'ambulanza intervenuta sul luogo del sinistro. Arriverà alle 9.25 al nosocomio del capoluogo. Intanto alle 8.42 vengono allertati anche i vigili del fuoco, che raggiungono il luogo dell'incidente e provvedono al recupero del mezzo. Sono ben tre negli ultimi cinque giorni gli episodi di gravi incidenti stradali da annoverare nella provincia. Dinamiche ed esiti differenti, ma che lasciano spazio a qualche considerazione, una in particolare. Alla luce di una casistica così diffusa di incidenti stradali spesso mortali, espressioni come pessimo stato dei manti stradali, distrazione al volante e azzardi inutili sulle nostre strade appartengono ad un dizionario che non vorremmo mai dover sfogliare.